Domenica 2 dicembre, anteprima dei Borghi del Natale, iniziativa organizzata dal comune di Monte Corvino Rovella in collaborazione con le associazioni locali. Due gli eventi previsti che abbineranno cultura e valorizzazione storica e gastronomica del territorio. Si comincerà alle ore 11 con la settima tappa di Food in Tour, iniziativa organizzata dal centro turistico giovanile Gruppo Picenzia, nata per favorire la conoscenza dei prodotti tipici direttamente su luoghi di produzione attraverso giornate di didattiche dedicate alla scoperta dei Borghi dei Monti Picentini. A seguire alle ore 20 la compagnia teatrale Ipercaso metterà in scena presso l'auditorium Don Gerardo Senatore lo spettacolo Volendo, Potendo, Pagando per la regia di Angelo Di Vece.